WELLA RAGAZI! Benvenuti alla seconda puntata di Diario di un Crociato. Finalmente è uscita un'altra cronaca dell'alba, questa si intitola Campane nell'alba, e stiamo sperimentando un nuovo format, nel senso che adesso Mauri ce la leggerà. Esatto, abbiamo fatto questo tentativo anche perché avevo un po' più di tempo del solito, perché non siamo riusciti a farlo uscire il giorno successivo all'uscita dell'articolo, ma abbiamo dovuto temporeggiare un paio di giorni, per cui abbiamo provato questa nuova cosa. Innanzitutto ricorderei a tutti che tra ormai quante settimane, tre o quattro settimane, Andre, ci sarà il Kislev Grand Tournament di Agile Valso, visto che la richiesta è stata tanta abbiamo deciso di prendere una sala in più, per cui abbiamo ancora sette o otto posti forse, quindi se qualcuno volesse aggiungersi all'ultimo minuto è il benvenuto. Fa pure rima. Adesso appunto passiamo a questa lettura, è stato un, come si dice, un esperimento suggerito da te, Andre, tra l'altro, ottima idea, bravissimo, perché hai avuto l'idea del podcast in generale e anche questa cosa qua, quindi bravissimo. Ma sono abbastanza ispirato in questo periodo. Ed è dedicato ovviamente in primis a tutti i Patreon che ci supportano e che rendono tutto questo, diciamo, ancora più fattibile. In particolare lo dedico a Luca Q, che la scorsa puntata, quando ha sentito che c'era una falce di mezzo, sperava fosse nonno Nargol, invece erano i Flash Heater, ed è stato accontentato di fatto in questo episodio. Nargol è arrivato. Esatto. E inoltre io ringrazierei anche Paolo Zabatta, che è colui che ci, che insomma, che traduce subito queste cronache appena escono e ci sta dando una grande mano, perché noi le leggiamo poi direttamente in italiano e non dobbiamo tradurcele. Quindi grazie mille per tutto quello che fai per la community. Esatto, grazie mille. E che dici Ander, passiamo alla lettura? Vai, Mauro, leggi pure. Con espressione corrucciata, la bimba mise le mani ai lati della testa ed agitò le sue dita tozze. Così, dai lati, spiegò, e poi una grande luna verso il basso, nella parte di dietro, così, e fece scorrere ad arco le braccia sopra le spalle. Tom finì la sua bozza col carboncino e la osservò. Un mostruoso mucchio scuro, sostenuto da quattro zampe, e una lunga macchia d'inchiostro con mandibole ed aracnide su di esso. Fece una smorfia sorridente mentre si sciacquava i palmi con una piccola fiala di acqua gheragnana. Sono certo che la maestra Berin lo troverà molto utile. Ora puoi andare, disse, facendo l'ecendolo di allontanarsi. La piccola sgattaiolo dalla porta esvanì nell'opprimente nebbia dell'insediamento e una figura snella con un lungo manto di giada fece capolino dalla tromba delle scale. E' trovato nulla? Chiese, con un tono di feroce curiosità. Ma non è niente, le rispose Tom facendo le spallucce. Un elfo, o un cervo forse, oppure un... Un presagio di sventura, disse l'altra chienandosi sulla spalla dello stanco attendente. Non lo vedi Tom, gli ho detto che l'avrei dimostrato. Fa tutto parte del ciclo, la morte degli animali, il malessere incessante le mosche. E dicendo ciò strappò il disegno da sotto il naso di Tom e iniziò a scarabocchiare appunti sul foglio con frenesia. E cosa accadrà a Ferderfield quando il ciclo cesserà? Le chiese, ma la maestra Berin aveva già smesso di ascoltare. Così sospirò e prese la sua borsa. Torno a casa per la notte. Vado, va bene? Dopo aver ricevuto un vacuo borbottio ed un cenno di mano, il giovane assistente uscì in silenzio in un'aria troppo pesante e di una roccaforte troppo tranquilla. Le campane erano inizialmente un affievolo eco alle orecchie di Tom, profondamente immerso nei suoi sogni. In un orrido e disarmonico crescendo riuscirono a svegliarlo in maniera talmente forte e repentina da far scricchiolare il suo collo. Affondò le dita nelle orecchie torcendole fino ad arrossarle, ma le campane continuarono incessantemente a suonare a tutta forza, tormentandolo senza segno di voler smettere. Mentre attraversava barcollante il centro della roccaforte, Tom notò dozzini di coloni appoggiati alle mura o alle case con la testa tra le mani. Molti erano raggomitolati sulle soglie, incapaci perfino di stare in piedi, stringendosi le tempie per il dolore. Irruppe in casa della sua maestra in preda ad un nuovo panico. La maestra Berin stava seduta esattamente dove Tom l'aveva lasciata la sera precedente. Leggeva i suoi appunti con espressione vacua e l'inchiostro all'estremità della sua penna gocciolava in una larga macchia. Maestra Berin, chiamò a voce alta per sovrastare le campane, state bene? Ah, Tom, scusami, devo aver perso la cognizione del tempo. Rispose con un tono ben più calmo rispetto al giorno prima, il sudore che gli imperlava la fronte pallida. Dove eravamo? Le campane, il quinto presagio, le ricordò. Cosa facciamo per le campane? Lasciami riposare un attimo. Lo rassicurò. Possiamo pensarci dopo. Ma tutti stanno... Ci ripenseremo dopo. Tom spilò la borsa ad erbe dalla spalla della sua maestra. Strappò due piccole strisce dalla tunica e se le infilò nelle orecchie. Raggiungetemi quando sarete pronta. Disse, dandogli una pacca rassicurante sulla spalla, che gli lasciò il palmo impregnato di sudore. Io inizio ad andare avanti. Dall'altra parte della strada, rispetto al capanno della maestra Berin, la bimba del giorno prima stava in piedi accanto alla madre. La donna era semisdraiata contro il muro di casa, mentre la figlia provava disperatamente a sospingere oltre le sue labbra una fiala di acqua ghieraniana. Tom si accovacciò accanto alle due, lottando contro l'impulso di rannicchiarsi e di infilarsi le dita nelle orecchie fino a farle sanguinare. Rivolse un sorriso di facciata alla piccola. Da brava, aiutami a portarla a letto, ok? Tirarono sulla donna per le braccia, mettendone ciascuno uno sulla spalla. Era ancora più fredda e sudata di quanto lo fosse la maestra Berin ed il suo alito marcio fece salire bile alla gola di Tom. Inghiotti e iniziò a sollevarsi. La donna però restò bloccata a terra. Faceva forse parte del precedente presagio o questo era un altro? Tom non era più sicuro. Abbasso lo sguardo sulle gambe della donna. Scure pozze di sangue si formarono sul suo abito laddove la pelle delle gambe iniziava a sciogliersi fondendosi con il selciato. Vide le labbra della figlia aprirsi per liberare un urlo, ma il tessuto nelle orecchie del suono incessante lontano delle campane lo avevano reso praticamente sordo. La ragazza lasciò andare il braccio privo di vita della madre e fuggì nel buio della casa, sbattendosi la porta alle spalle. Tom attraverso il centro dell'insediamento doveva raggiungere l'acqualite. Forse poteva in qualche modo ripulire le gambe della donna dalla corruzione ed aiutarla a rimettersi in piedi. Il suo respiro era diventato affannoso. Lo sforzo nel cercare di aiutarla ad alzarsi lo aveva parecchio provato. Rallentò passando dalla corsa ad un passo rapido, poi al camminare, finché non si fermò a pochi metri dalla grande struttura di pietra. Sarebbe rimasto seduto giusto qualche istante, poi avrebbe proseguito. Mentre Tom riposava, il sole tramontava, o stava forse sorgendo, in un cielo di un verde malsano. Una piccola parte di lui pensava che avrebbe dovuto alzarsi, ma il suo corpo era così pesante. Stava andando a prendere qualcosa per qualcuno. Non era del tutto sicuro di quanto tempo fosse passato. Strane forme balzarono oltre il mura nella penombra calata sulla roccaforte. Tra di loro vide una macchia scura sul paesaggio deformato e saturo. Un cavallo così marcescente che il suo cranio nudo pendeva dal suo collo lacerato, con una sagoma in arcione vestita di stracci. Dalla testa del cavaliere spuntavano due corna ricoperte di sangue. Mentre i suoi laccheri devano e danzavano attorno ai corpi dei coloni ricoperti dalle mosche, la figura smontò con un tonfo umido ed arrancò in avanti. Poggiò la sua grande falce su una spalla, mentre si inginocchiava accanto al corpo di Tom. Buona cosa che tu sia sopravvissuto fino ad ora, giovane e sventurato. Tom sussultò quando le funeste parole che c'erano direttamente nella sua testa. La tua volontà ti ha reso un degno sacrificio. Tom sentì solo vagamente la punta della falce che gli perforava lo stomaco. Un'ondata di dolore squarciò il suo stupore, ma ormai non aveva più le forze per urlare. I suoi occhi annebbiati fissarono i propri intestini, mentre il cavaliere li raccoglieva e li spargeva. Sargerione di suoi si avvicinano da occidente. La voce dell'uomo era poco meno di un sussurro, eppure i suoi servi parverò dire prestare attenzione a quelle parole. Li incontreremo all'alba. Mentre il suo seguito si sfarpagliò per prepararsi a tendere l'acquato, il cavaliere sorrise a Tom. Il suo elmo incrostato era crivellato da nidi di mosche. Ti sei guadagnato una morte rapida. Gli disse, sollevandosi in tutta la sua stazza, la falce stretta nella mano. Poi si allontanò. Peccato però che il nonno non desideri altro che la tua lenta decomposizione. Mentre i vati dei presagi di Furtherfield si disperdevano e svanivano, Tom rimase riverso con la schiena contro il selciato, i suoi occhi aridi ed incapaci di piangere. Tutto ciò che riusciva a sentire era il sordo e lamentoso rintocco finale delle campane che lo accoglievano a casa. Beh, che figata anche questo racconto, no? Cioè, a me è piaciuto un casino. Tu cosa ne pensi a voi? Mi è piaciuto molto, sì. Mi è piaciuto molto. E poi ovviamente mi sono divertito a fare questa cosa qua. Quindi, diciamo, è un po' più... Sono preso molto bene. Sì, esatto, ragazzi. Fateci sapere se questo tipo di format così con Mauri che legge vi può piacere perché in effetti pensiamo di riproporlo, ma fateci sapere i vostri feedback. Esatto, se vi piace lo cercheremo di riproporlo sicuramente le prossime volte. Anzi, magari in qualche maniera cercheremo di recuperare anche il primo e poi eventualmente di fare un, come si dice, un unplane con tutta... Una compilation, anzi. Ma tornando al racconto, pian piano sembra che uno alla volta ci stiano, come si dice, rivelando i quattro... Qual è il nome esatto? Non so, Cavalieri dell'Apocalisse? Sì, sono degli hardbringer un po' tutti. Esatto, esatto. Tutti quanti che portano i loro presagi, chi di sventura e chi... Eh no, chi niente. Per ora tutti quanti di sventura. Però non stanno tanto bene a queste città di Sigmar. Allora, io farei un commentino di quello che abbiamo appena letto, di che cosa salta all'occhio. Beh, intanto rimaniamo su Giran. Esatto. Quindi rimaniamo su questa parte qua di Ammeral. Qui siamo in un... Qui ci sono molto meno informazioni in realtà rispetto alla prima lettura. Perché non viene nominato l'avamposto che poi dopo viene chiaramente... Forse molto brevemente, una o due volte viene detto che si chiama Fatherfield. Ah, sì, giusto, giusto, giusto. Se è questo l'avamposto, però penso che possa essere questo qua. Sì, potrebbe essere quello. Io ho cercato, ma non l'ho trovato sulle mappe. Quindi, se qualcuno sa bene dov'è, se no probabilmente è uno di questi posti microscopici di fantasia che usano per questi racconti, che poi spariscono e non saranno più utili in futuro. Sì, si è acceso e spento con questo racconto. Eh, sì. Di nuovo si prende un personaggio, in questo caso Tom, che è colui che ci fa vivere questa storia, che è questo attendista un po' sventurato, che ci ha portato di nuovo a assaporare l'umiltà in cui vivono le città di Sigmar e la disperazione quando le piaghe si infliggono su di loro. Esatto, la situazione è molto simile a quella dello scorso racconto, perché appunto c'è la cittadinanza, sembra essere preda di questi, loro se non sbaglio li chiamano presagino, presagino di sventura, di varie calamità che sono accadute, molto simili a quelli che erano descritti nel primo racconto. Esatto, abbiamo due rambossi, due cittadine, due punti nella mappa che in effetti stanno vivendo una situazione molto difficile e non finisce bene, in nessuno dei tuoi casi purtroppo. Esatto. La cosa interessante, e per me il personaggio che è stato più interessante, è proprio questa maestra Beren, che spero fosse sviluppata un po' di più, ma in realtà è piaciuto molto perché è chiaramente una studiosa delle sedi di Sigmar che ha capito un po' come, quando inizia a nominare il ciclo, tutta questa parte vuol dire che secondo me ha capito un po' Nargol, pur non avendo accettato nessun dono, pur non essendo una discepola di Nargol, ma essendone solo una studiosa. Una figura che a me ha affascinato perché non avevo mai ipotizzato che ci fossero questi studiosi, ma diciamo anche molto umili, perché chiaramente questa Beren non è che avesse capito molto e soprattutto poi era completamente in balli degli eventi verso la fine. Esatto. La terminologia che usa è palesemente legata a Nargol, nonostante lei non sia una seguace diretta, perché appunto, come dici tu, il nominare il ciclo fa proprio parte di ciò che riguarda lo sviluppo e la vita di Nargol. A proposito di vita, vediamo proprio che è palese che l'assedio da parte di Nargol del regno della vita sia ripreso a gran forza. Cioè, lo è sempre stato, è sempre stato presente, ma in questo momento sembra essere ripartito con ancora maggior vigore. Sì, di fatto io mi aspettavo in effetti di vedere Nargol proprio sul regno della vita. Di fatto faccio un piccolo Fanta Warhammer e inizio a pensare che i prossimi due invece saranno ambientati su Akshi, perché abbiamo un nano sventratore e lì è facile, diciamo, ipotizzare Akshi. E poi vediamo un altro racconto, se sarà sempre su Akshi o chissà dove sarà, quello del Goblin intendo. Sì, esatto. Probabilmente a questo punto i due protagonisti principali saranno appunto Nani di Fuego contro Goblin in Akshi, che è molto interessante vedere i Goblin sul Regno del Fuoco. Sì, beh, io i Goblin me li immagino un po' ovunque, sul Regno del Fuoco sicuramente anche. Assolutamente sì. Poi la parte più bella del racconto è quando arriva veramente il personaggio di Nargol, questo Harbringer, che tu tra l'altro sai come si chiama, no? Ve l'hai trovato. Sì, sì, assolutamente, perché quando la GV ci ha annunciato che sarebbe uscito il nuovo GH, ha rivelato le quattro scatole che portano tutte quante il nome dei personaggi. In questo caso si chiama Fulgot e c'è la sua fratellanza, diciamo, di questi mortali di Nargol che a quanto pare stanno aspettando lo scontro con Gerion, perché un'altra cosa molto interessante è che venga nominato Gerion e tutto il suo seguito come se fosse una personalità piuttosto eminente ed importante già a questo punto. Quindi io mi aspetto che le crociate dell'alba, tutta quanta la campagna, si inserisca in un momento in cui gli eventi si sono già avviati in maniera piuttosto importante, tanto che Gerion si è già fatto un nome anche nei confronti di quelli che saranno i suoi nemici, e cioè Nargol, per cui non vediamo da nessuna parte la vera contrapposizione tra bene e male, perché in questo caso c'è male e male, col bene in mezzo. Sì, esatto, il bene mi sembra proprio impotente in questi primi due racconti, quindi che si aspettava che le City of Simmer fossero protagoniste, beh, forse magari viene un po' deluso perché per ora sono spettatori molestati dagli altri. Esatto. Ragazzi, tra l'altro, piccolo spoiler, sto preparando il podcast di Day Seraphon e nel libro dei Seraphon c'è già scritta una parte delle Downbringer Crusade e parla proprio di come i Seraphon interagiscono con le città di Sigmar cercando di indirizzare proprio le città di Sigmar ma anche gli Stropcast nei luoghi di potere arcano che sono abbastanza importanti da meritare un insediamento, ma non così fondamentali da essere controllati dagli Seraphon stessi. Possiede quel Battletome, può leggere tranquillamente di come la storia stia andando avanti e quindi io mi auguro che anche i prossimi Battletome che usciranno, quindi City of Sigmar a breve e poi ipotizzo Flesh Eater parleranno proprio delle Downbringer Crusade come un fatto già avvenuto. Infatti io non vedo l'ora che esca e queste croniche mi stanno stimolando molto da questo punto di vista qui. Eh sì, certo, certo, ma anche perché ci sta però che nell'ultimo tomo ci sia questo accenno e è molto interessante e sicuramente con il tomo delle città di Sigmar esploderà tutto quanto la questione oltre che con la campagna stessa. Bene, bene, no? Io sono contento comunque che stia prendendo come dicevamo anche la scorsa volta un piede più umano e ancora più grimdark tutta l'ambientazione e vedremo come riescono a svilupparla. E anche perché non l'abbiamo, vabbè, l'avete sentito, il racconto si conclude con questa città che viene distrutta ovviamente dai seguaci di Nargol che attendono l'alba successiva per fare questo guato a Gerion. Quindi sembra che comunque la delegazione di Gerion stia andando di città in città a raccogliere sempre più seguito e sembra che la prossima meta sia appunto questa città Farther Field però verranno interrotti dai ragazzi di Fulgo. Andre paragonando questo racconto e lo scorso cosa ne dici? Quale ti è piaciuto di più? Secondo me lo scorso era un pelo più avvincente nel senso mi ha fatto entrare di più nell'ottica questo qua mi è piaciuto comunque però come mi facevi notare tu in effetti Nargol l'hanno fatto un po' troppo crudele forse esatto se tu hai usato il termine sadico secondo me è quello corretto Eh sì io Nargol non me lo immagino così sadico me lo immagino più come uno che elargisce i doni quindi io mi immaginavo che avrebbe fatto una cosa più simile a Gerion ovvero avrebbe provato a portare più popolani possibile tra le fila di Nargol invece qua chiaramente uccide senza pietà Sothom che in realtà potrebbe diventare un addetto di Nargol sarebbe stato anche più interessante a mio parere Sì concordo in pieno invece questo poveraccio lasciato lì a marciere con l'interiore di fuori come tra l'altro viene detto come sacrificio al nonno Nargol secondo me il nonno Nargol non è uno che storicamente aveva bisogno di sacrifici tutt'altro però magari ci sarà un nuovo aspetto dei mortali di Nargol che saranno più appunto più crudeli Sì è possibile difatti ricordo a tutti che Nargol è l'unico dei dei del caos che dà i propri doni anche se uno non se li è insomma guadagnati perché mentre Khorne Zinche e Slanesh i loro campioni mortali devono superare delle prove per poi essere benedetti dagli dei Nargol agisce forse in modo più astuto nel senso che dà i propri doni a questi campioni affinché loro possano portare a compimento delle missioni sì esatto mentre gli altri dei vogliono che si diventi campioni per poi ricevere i doni Nargol dona affinché si diventi campioni quindi è una tattica proprio completamente diversa e bene vedremo perché tanto non avremo da aspettare molto per l'uscita del prossimo racconto perché sarà alla fine della settimana corrente esatto e vedremo se sarà ambientato su Axie io sono contento perché è uno di quei rami poco esplorati quindi non vedo l'ora ragazzi speriamo che vi sia piaciuto questo contenuto e se così fosse magari lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo la prossima settimana esatto alla prossima ragazzi ciao